Una piattaforma digitale progettata per la diffusione dei risultati di Accademia Youth Experience, il progetto che nasce dal FESR Puglia Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale, Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano, è realizzato dalla Cooperativa Sociale JET di Bari Enziteto in collaborazione con altre realtà del territorio. E' questo lo strumento innovativo presentato in regione che permetterà un tour virtuale interattivo in grado di mostrare tutti i cantieri di Antimafia Sociale realizzati nel corso delle attività progettuali. Interagendo con gli oggetti sul portale si potranno visionare i prodotti realizzati dai partecipanti. Il progetto sui cantieri innovativi di Antimafia Sociale è stato avviato nel quartiere di Enziteto di Bari per stimolare processi di cambiamento per i partecipanti e ha avuto l'obiettivo di costruire veri e propri spazi fisici che intendono testimoniare un'alternativa possibile alle attività illegali. Bisogna garantire ai giovani ancora l'accesso alla cultura in maniera semplice e innovativa anche. Sicuramente l'obiettivo più importante è trovare un modo per cui abbia continuità poi nel futuro. Ci sono buone ragioni per le quali almeno alcune di queste esperienze laboratoriali legate ai cantieri possano continuare in futuro. Sono nate delle associazioni per esempio che intendono continuare a portare la loro azione sul territorio all'interno di un'idea di impresa sociale. integrando anche queste esperienze per poterle continuare allargandole anche con altre associazioni e altre realtà sempre diciamo condividendo l'idea che l'arte e la cultura alla fine sono un ottimo strumento per fare percorsi di cambiamento.